Davide Biondini, quanta arrabbiatura c'è? Oggi tanta, per tante piccole cose, ma soprattutto perché perdere dopo aver giocato una partita così intensa contro una squadra così forte, brucia ancora un po' di più. Una bella prestazione, una buona prestazione da parte dell'Atalanta, anche perché avete tenuto bene il campo, li avete anche messi in difficoltà. Sì, sicuramente è una cosa che non succede sempre, quella di mettere in difficoltà una squadra come il Milan, anche quando c'è in inferiorità numerica. Ripeto, in una giornata in cui tante piccole cose sono andate storte, però abbiamo cercato fino in fondo di spingere le cose dalla nostra parte e questo non è da tutti. Ecco, si sono un po' rasserenati gli animi e ovviamente c'era tanta arrabbiatura in campo, tante proteste anche nei confronti dell'arbitro Gervasoni, un'espulsione ai danni dell'Atalanta. Sì, ma queste sono partite vive, bellissime da giocare, proprio perché questo è il calcio, è una lotta per 90 minuti, però almeno per quanto mi riguarda alla fine con i nostri avversari ci siamo stretti la mano, è andato tutto benissimo. Mi dispiace che ogni tanto siano quelle persone che sono al di fuori di noi giocatori a creare un po' più di confusione e a creare qualche problema che si potrebbe benissimo evitare. Davide, adesso c'è una partita importante, la prossima trasferta a Palermo, anche vista la situazione del Rosanero in classifica. Sì, per noi sarebbe veramente importante svoltare adesso, fare un cambio di passo, soprattutto per quanto riguarda i risultati, proprio perché potremmo allungare la classifica. Quindi, ripeto, quella di domenica è veramente un'occasione importante, dobbiamo arrivarci con la testa giusta, senza preoccupazioni, ma con la convinzione che l'Atalanta che si è vista oggi è difficile da affrontare per tutti.